Un bilancio positivo quello della missione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi negli Stati Uniti che si conclude oggi a New York con la deposizione di una corona di fiori a Ground Zero. A Washington Piantedosi ha incontrato la vice ministra della giustizia Lisa Monaco e il segretario per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas. Lotta al crimine organizzato, al traffico di droga e all'immigrazione illegale, i principali temi trattati su cui c'è ampia collaborazione tra Stati Uniti e Italia. E a proposito di immigrazione e della situazione a Lampedusa, il ministro ci ha annunciato che mercoledì prossimo incontrerà a Roma il suo omologo tunisino e ci ha detto stiamo soffrendo in prima linea, ci siamo organizzati per reggere l'urto in arrivo e confidiamo nei tempi dovuti di tenere sotto controllo la situazione.